Sono in corso e si concluderanno entro la fine di agosto i lavori di ammodernamento e sostituzione con lampanine a led degli impianti di illuminazione dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia, Ignazio Guidi e quelli da Piazzale Brasile fino a Piazza Fiume. Già terminate invece i lavori di illuminazione nella Galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti. Sono oltre 10.000 i romani che hanno acquistato la MIC fino ad oggi, un successo in costante crescita per la CARD per chi vive e studia a Roma, che al costo di 5 euro per 12 mesi permette l'ingresso illimitato nel sistema dei musei civici di Roma. Riaprono dal prossimo 3 settembre fino a userimento posti le iscrizioni ai corsi formativi delle quattro scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Sul sito di Roma Capitale, sezione Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, sono disponibili tutte le informazioni sui corsi in programma per l'anno formativo 2018-2019.